benvenuti in un nuovo video di mario kart tour come vedete si è sbloccato il trofeo browser oltre ancora 37 minuti per sbloccarsi ma mi sa che non facciamo in tempo e quindi iniziamo con la prima corsa prendiamo l'ombrellino si va tanto se non avete fatto vi ricordo di mettere un mi piace iscrivervi al canale se vi piace il video chiaramente iniziamo iniziamo sarà un po scarso stamattina perché non ho giocato tutto il weekend quindi un po fatica infatti dai solo io l'ombrellino delle gusci rossi mica dei funghi eh ma già voi invece dai dai ma cos'è ma perché 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 mi ha fatto male col figlio di cane magia quarto ma sta macchina un po così è per non è molto maneggevole va bene tre stelle tre stelle andiamo avanti poi vediamo se rifarlo no se ci va di culo entriamo se no allora usiamo noi e abbiamo ancora questa qua questa qua abbiamo un combo andiamo per le combo oh figa ma che una banana dai dai ma cosa cazzo sta succedendo mannaggia a loro mannaggia 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 ok prendiamo sto cubo ah perchè sono andato sulla sabbia dai 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 e vai bene bene questa è andata meglio questa è andata meglio è andata meglio 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 4 stelle andiamo avanti allora abbiamo ancora 4 e apriamo un regalo a vedi che c'è lo browser scheletro e e e e e facciamo vedere andate e e e e e e e Sì. Ehm. 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 Zero. Zero scumata. Cazzo sto andando. Ah. Vabbè. Questo proprio sbaglio. Sì, vabbè, sti muri, te cazzo. Perché mi inverte la fottuto... La fottuta sgommata? Ancora, eh. Porca di una puttana. Non sei ciò davanti? Mmm. Mizzica che rabbia, porca troia. Muoviti. Pazzo. Sto cazzo. Cazzo. Una seconda. Vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Mi sono incasinato con le sgommate. con le derapate. Con le derapate. Con le derapate. Con le derapate. Dai, dai. Cazzo, per poco. La quarta stella. Dalla. Dalla quarta stella. Ok. Apriamo il regalino. Le venti stelle e c'è la macchinina. E' quella che mi interessa, alla fine. Quindi... Allora. Facciamo questa. Prova a superare la spesa di compilota. Vabbè. Prima partenza a raggiunto. Tocca a me la numero 2. Vabbè. 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 Tempo. Vabbè. Vabbè. Dai. Cazzo. Vabbè. 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 3 stelle bene 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 andiamo avanti il trofeo è terminato allora qua ma siamo abbiamo finito cosa possiamo fare e facciamo una partita online se ne frega non ho capito se cambia qualcosa se non guardano la mia posizione oppure no però vedo che va comunque risparmio batteria allora andiamo di buzzer junior quindi questa qua e questa dai tf andiamo sono veloce via 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 la macchina non è il massimo la strada su cazzo non l'ho preso oh non chi urlo che ho preso quello invece di prendere il primo cosa succede non so se sono lento non è possibile cazzo nessuno non so se non tante monete siamo lenti vabbè terzi è veramente lento il secondo canale sotto una stella facciamo un'altra questo qua questa perché mi sa che è più maneggevole siamo in due vabbè e vai per line alle sette e mezza del mattino mi sa che è un po' vuoto vai 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 siiii vai con l'uno contro uno no c'è la banana mannaggia me proteggeva bello che cazzo succede? che cazzo è successo? che cavolo è successo? che palle che palle ste rocce di merda mi sa che qua ho perduto non lo vedo qua dai sì ma se non mi colpivo da solo porca trota che palle non lo vedo qua non lo vedo qua quindi questo e via c'è l'ultima e poi stacchiamo che c'è l'ultima e poi non lo vedo qua non lo vedo qua non lo vedo qua Sì, mi ha preso la roccia di delcazzo prima, sono accorto mica. Non l'ho proprio visto. L'ho esplosato da solo. Come è andata la cosa? Sì, vabbè. Fa prendere quello dopo, no? Fa prendere quello già colpito. L'ho capito, io quando lancio i cusci rossi gli fa un cazzo l'avversario. Vabbè. Ma sono arrivato magari anche terzo questo stronzo, ma porca troia. Ma vaffanculo, va. Ma dai, ma si può che arriva l'ultimo secondo. Ma che figlio. Mannaggia lui. Vabbè. Finiamo qua, va. Cazzo si riesce, ma. Sì. Aspetta un attimo. C'è un sacco di roba da usare. Vabbè, andiamo via. Allora. Abbandona la. Anche tardi. È tardi. È tardi. 18 minuti. Adesso devo andare. Un negozio cosa c'è di nuovo? Sa niente. Infatti. Va bene. Per oggi è tutto. E buona giornata. Ciao.